Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. La consapevolezza della difficoltà che aspetta chi rappresenta in questo momento la nazione e il peso della responsabilità di 60 milioni di persone non solo di una parte. Chi va al governo rappresenta l'intera nazione, smette gli abiti della parte e si assume quelli della responsabilità collettiva. E quello che noi porteremo avanti come governo sarà quello. Grazie a tutti.